Nicola Gregori, presidente dell'Atletica a Vice Sansepolcro, bel successo la corsa campestre sulle orme del fantasma che si è tenuta lo scorso 31 gennaio, tanta gente, tanti bambini, presidente, successo garantito. E' stato un successo, grande soddisfazione perché è stato un successo tutta la giornata, abbiamo investito tanto sul settore giovanile e ci sono stati 325 bambini che si sono cimentati al Castello di Sorci. Ma non solo, anche la gara degli adulti è stata riscosso notevole successo perché se penso che da 80 partecipanti circa siamo passati quasi a 120, un più 50% credo che poche altre volte è successo. Quindi grande soddisfazione, grande soddisfazione perché salvo alcuni piccoli imprevisti, però nel gestire così tante persone credo che sia normale, è andato tutto bene. E' andato bene, le gare degli adulti sono state tutte molto combattute, sia quella degli assoluti maschili, sia quella femminile, sia quella dei veterani e le gare dei bambini che erano praticamente la terza tappa del criterium Umbro e il campionato provinciale della provincia d'Arezzo sono state tutte combattutissime con 60 bambini per ogni categoria, quindi veramente grande soddisfazione. Un percorso molto bello, si è sviluppato tra l'altro anche all'interno dell'arboreto del Castello dei Sorci, tanta gente e soprattutto anche tante persone di tante età. Tante persone di tante età, si andava dai bambini appunto dai più piccoli del 2009 fino all'atleta più grande Gibin Amilcare del 1938, quindi veramente tutte le età e il podismo è uno sport per tutte le età. Questa è la tappa di avvicinamento a quella che è la gara a cui tenete particolarmente, la notturna di Sansepolcro che si terrà credo a giugno, quindi ne riparleremo, vi richiameremo, però se il buongiorno si vede dal mattino Presidente io posso tranquillamente dire, lo dovrai dire anche te, è un buongiorno. È stato davvero un buongiorno, è stato il nostro primo evento dell'anno, ci siamo impegnati tanto e insomma aver portato così tante persone al Castello di Sorci, aver riscosso questo successo, grande soddisfazione. Speriamo sia di buon auspicio per la gara della notturna che si svolgerà il terzo sabato di giugno. Speriamo sia di buon auspicio per la gara della notturna che si svolgerà il terzo sabato di giugno.